primo dolore un acrobata da trapezio come tutti sanno quest'arte che si svolge in alto nelle volte dei grandi teatri di verità è una tra le più difficili in cui l'uomo possa provarsi in principio soltanto per l'ambizione d'arrivare alla perfezione e poi anche per un'abitudine ormai divenuta tirannica aveva disposto la sua vita in modo da rimanere per tutto il tempo in cui lavorava con la stessa impresa giorno e notte sul trapezio a tutte le sue del resto modestissime esigenze si provvedeva con inservienti che si davano il turno e vegliavano in basso per mandare su e giù quel che occorreva in alto in recipienti costruiti appositamente questo modo di vivere non procurava particolari difficoltà a quelli che gli vivevano intorno soltanto durante gli altri numeri del programma disturbava un po che gli restasse lassù lo si poteva nascondere sicché per quanto in quei momenti se ne stesse quasi sempre fermo e quando in quando uno sguardo del pubblico si sviava fino a lui ma i direttori glielo perdonavano perché era un artista eccezionale insostituibile inoltre si rendevano naturalmente conto che egli non viveva così per un capriccio e che effettivamente soltanto in quel modo poteva stare in continuo esercizio e mantenere sempre perfetta la sua arte del resto la vita lassù era anche sana e quando con la buona stagione tutto in giro nella volta venivano spalancate le finestre laterali e in quell'ambiente crepuscolare penetrava con l'aria fresca trionfante anche la luce del sole era perfino bella certo le sue relazioni con gli uomini erano molto limitate solo ogni tanto qualche altro acrobata s'arrampicava su per la scala di corda fino a lui sedevano allora ambedue sul trapezio appoggiandosi a destra e a sinistra le corde di sostegno e chiacchieravano oppure qualche muratore saliva sul tetto per ripararlo e scambiava con l'acrobata due parole attraverso una finestra aperta o un pompiere veniva a ispezionare l'illuminazione di ripiego del loggione e gli gridava qualche frase rispettosa ma poco comprensibile di solito però il silenzio regnava intorno a lui soltanto qualche volta capitava per caso nel pomeriggio quando la sala era vuota un impiegato che sopra pensiero levava gli occhi in alto verso quella volta che quasi si sottraeva alla vista dove l'acrobata senza sospettare che qualcuno l'osservasse dava prova della sua arte o riposava e così avrebbe voluto vivere indisturbato se non ci fossero stati gli inevitabili viaggi da una città all'altra che gli riuscivano tanto gravosi è vero che l'impresario si preoccupava che all'acrobata venisse risparmiato ogni prolungamento non necessario delle sue sofferenze per trasferirsi da un luogo all'altro nella stessa città si utilizzavano automobili da corsa con cui il personale del circo passava magari di notte o nelle prime ore del mattino per le vie deserte alla massima velocità ma sempre troppo lentamente per la smania dell'acrobata in treno gli veniva riservato tutto uno scompartimento trascorreva allora tutto il tempo del viaggio in alto nella rete riservata alle valigie una specie di surrogato anche se misero alla sua solita maniera di vivere nel teatro che lo attendeva era già sistemato molto prima dell'arrivo dell'acrobata e il suo trapezio si era pensato inoltre a spalancare tutte le porte che davano nella sala e a sgomberare i corridoi ma era sempre il momento più bello nella vita dell'impresario quando l'acrobata metteva il piede sulla scala di corda e in un baleno era finalmente di nuovo sospeso al suo trapezio per quanto molti di questi viaggi fossero ormai riusciti bene all'impresario pure ogni nuovo movimento gli era penoso perché a parte tutto il resto i viaggi certamente minavano i nervi dell'acrobata una volta ci trovarono di nuovo insieme in un viaggio l'acrobata steso nella rete riservata alle valigie sognava l'impresario leggeva un libro di fronte appoggiato nell'angolo vicino al finestrino quando l'acrobata cominciò a parlargli sommessamente l'impresario fu subito tutto orecchi l'acrobata disse mordendosi le labbra che per i suoi esercizi gli occorrevano d'ora in poi invece del solito trapezio sempre due l'uno di faccia all'altro l'impresario consentì immediatamente l'acrobata però come per dimostrare che in questo caso tanto il consenso come il rifiuto dell'impresario non avrebbero avuto nessuna importanza continuava a dire che non avrebbe mai più e per nessuna ragione al mondo fatto i suoi esercizi su di un solo trapezio al solo immaginare ciò che potesse ancora capitare e gli parve rabbrividire l'impresario confermò ancora pur esitando e tenendolo d'occhio il suo piano consenso e disse che due trapezzi erano meglio di uno e anzi questa sistemazione sarebbe stata utile comunque perché la rappresentazione ne verrebbe certo variata ma l'acrobata scoppiò improvvisamente in lacrime profondamente spaventato l'impresario saltò in piedi chiedendo cosa mai fosse successo e non ottenendo risposta salì sul sedile e cominciò ad accarezzare il poveretto premendo il viso di lui sul suo si da rimanere anche egli bagnato dalle lacrime dell'acrobata ma solo dopo molte domande e lusinghe questi esclamò singhiozzando con una sola sbarra tra le mani come posso fare a vivere all'impresario fu ormai più facile consolarlo promise di telegrafare subito dalla prossima stazione al luogo dove si dovevano dare le successive rappresentazioni per provvedere al secondo trapezio si rimproverò di aver fatto lavorare l'acrobata per tanto tempo su di un solo trapezio lo ringraziò e lo lodò vivamente per avergli fatto notare finalmente questo errore così riuscì a tranquillare a poco a poco l'acrobata e poter ritornare nel suo cantuccio ma non era più tranquillo lui ora tutto preoccupato spiava l'acrobata al di sopra del libro che teneva in mano se ormai questi pensieri cominciavano a tormentarlo sarebbero poi scomparsi completamente e non c'era da credere che sarebbero invece sempre aumentati non minavano forse la sua esistenza e l'impresario già credette di vedere come ora nel sonno apparentemente tranquillo in cui sarà concluso il pianto principiassero a disegnarsi sulla fronte liscia infantile dell'acrobata le prime rughe grazie a tutti Grazie a tutti